YouTube ho ripreso in mano il mio account, ho montato questi tre mazzi e sono arrivato in Legend in quattro giorni, solo quattro giorni ci ho messo, i mazzi sono stati molto performanti e diciamo che c'è un escalation di costo di questi mazzi ci sta uno molto economico, ci sta uno mediamente costoso e c'è uno molto costoso quindi in base alle vostre esigenze sceglierete quale di questi tre montarvi per diciamo venire incontro a tutti i tipi di giocatori, chi si riavvicina a Darkstone dopo tanti anni, chi è un veterano e quindi ha un'infinita dust da spendere nelle proprie carte e magari vuole farsi un mazzo piuttosto che un altro sono tre mazzi completamente diverse, tre strategie completamente diverse, quindi partiamo subito a vedere i mazzi che ho utilizzato vi spiegherò subito i rank legati ai mazzi perché diciamo che sono state tre fasi quindi ho transizionato da mazzo 1 al 2 al 3 vi spiegherò in ordine quindi non perdiamoci in chiacchiere. Vi ricordo come al solito che potete iscrivervi al canale, se vi piace questo contenuto fatemelo sapere nei commenti se qualcuno è interessato a Darkstone, come possiamo migliorare e essendo comunque un nuovo format cosa vorreste vedere nei prossimi video. Quindi primo deck, Spell Mage, un mazzo che ha dominato per tantissimo tempo dopo il nerf alla Spell Lunacy, ha comunque visto molto gioco, questa versione non gioca quella Spell, molto forte, si basa principalmente su Spell, appunto si chiama Spell Mage, non gioca alcun minion, quindi una versione molto particolare e si basa principalmente sul fare control e nel frattempo può sparare un po' di danni face per poi arrivare late game, sparare una caterba di danni con tutto il mazzo scontato grazie all'Incanters Flow e vincerete la partita semplicemente perché avete tantissimi danni in questo mazzo è un mazzo che crea molto value, riesce a fare un sacco di mana cheat quindi non pagherete mai il loro costo le carte, almeno se il mazzo ovviamente vi gira alla perfezione. Questo è il mazzo che ho utilizzato proprio quando ho reinstallato Arston, ho detto qual è il mazzo più economico da montare che può performare, era appunto questo mitico mage con 0 leggendare 0 leggendare avete capito bene molto performante, molto divertente da giocare adesso attualmente lo sto utilizzando anche in Legend e performa bene anche qui sicuramente per chi si riavvicina ad Arston, dopo tanto tempo questo è il mazzo che vi consiglio non è difficilissimo da giocare, nei primi turni dovete tradare i pezzi di avversario per poi iniziare a cercare di costruire un vantaggio per sparare un po' di danni face bene, questo era il primo deck, passiamo al secondo deck, vi ricordo fatemi sapere nei commenti che ne pensate se voi giocate una versione un po' differente qualche tech card, ad esempio io gioco Ice Barrier che insomma è una carta che non ho visto in molte liste, però ognuno la gioca come vuole il secondo deck è il Miracle Rogue, Miracle Rogue che è un mazzo chiaramente che adesso sta sfondando nella ladder sia in Legend che a qualsiasi elo un mazzo secondo me molto difficile da giocare a differenza del Mage che abbiamo visto prima il Rogue è una delle classi più skillate dovete conoscere molto bene il mazzo del vostro avversario e il vostro stesso mazzo perché ci sono molte combo che devono essere fatte utilizzando il mana giusto, quindi dovete sapere come gestire il vostro mana come utilizzare le combo, come utilizzare carte come Shadow Step oppure come fare la combo con Alex Trarsa e Tenwu se nel game dovete rimbalzarvi magari Jandis o Alex Trarsa insomma capire quale tipologia di game plan vi serve è un mazzo molto difficile io lo consiglio solo ai più veterani di Hearthstone se non conoscete bene il meta attuale vi consiglio prima di farvi le ossa e poi di montarvi questo mazzo semplicemente montarlo prendere pizza finché non avete imparato il meta credo che attualmente sia uno dei mazzi più forti in generale il costo è medio diciamo non è troppo costoso gioca chiaramente molte leggendarie come potete vedere alcune ve le regalano altre sono diciamo delle stable che si giocano in tanti mazzi ad esempio Kazakus è in più a caso è una carta che si gioca in tantissimi mazzi quindi diciamo che è un craft abbastanza buono quindi non esitate a costruirvi questo mazzo se siete dei fan del rogue mazzo che si basa sulle combo grazie al mitico Field Contact potete pescare una caterba di carte la forza di questo mazzo è proprio il card draw infinito e il ciclo di tutte le carte che vi permette di giocare quasi tutto il mazzo tutte le partite mi è capitato il 90% delle volte di finire il deck e vincere con 0 carte nel mazzo proprio per la potenza di pescata di questo deck anche permessa dal Secret Passage che secondo me è una carta sbilanciatissima dovete valutare sempre quale nelle vostre leggendarie volete durante la partita rimbalzare con i Shadow Step Ottenvu quindi in base al vostro avversario dovrete capire se rimbalzare i Mankrick Kazakus, Alexstrasza, Jandis e così via quindi cercate sempre di capire cosa avete contro e in base a quello capire il vostro game plan quindi mazzo molto figo l'ho utilizzato praticamente per tutto il Diamond da Diamond 10 a Diamond 3 circa 3,2 molto forte come deck attualmente in Legend penso sia uno dei mazzi più performanti anche perché diciamo in generale sulla carta ha quasi tutti i matchup positivi quindi un mazzo che consiglio sicuramente a chi è più esperto questa è la mia versione ne ho viste tante altre quei segreti molto forti anche quelle questa era quella che ho utilizzato io in Diamond e che sto utilizzando tuttora in Legend quindi se vi piace viaffate un copia e incolla che troverete nei commenti vi ricordo in descrizione avete tutte le decklist e potete copiare direttamente in game quindi non esitate a farlo bene come ultimo deck abbiamo il mitico Control Rush Warrior chiamatelo come volete Rush Warrior un deck che ho reputato tra i più forti attualmente e che secondo me è veramente divertente da giocare oltre ad essere molto forte è un mazzo penso il più costoso dei tre comprende tante leggendare che sono legate principalmente al Warrior quindi chiaramente è un mazzo che e vi piace Warrior potete montarvi questo credo che sia addirittura il più costoso tra i tre non troppo più costoso di Rogue ma non ha tante leggendare appunto come dicevo prima che potete usare anche in altri mazzi qua le leggendare sono letteralmente utilizzabili solo in questo mazzo quindi chiaramente un deck che consiglio a chi ha tante risorse il mazzo si basa principalmente sulla meccanica Rush quindi giocare dei minion che picchieranno i minion del tuo avversario dovete basarvi molto sul Bore Control quindi cercare di sparecchiare sempre il campo all'avversario quando possibile sfruttare i vostri buff quindi cercare di tirare i buff sui vostri Rush Minion e utilizzarli al momento giusto il mazzo è molto divertente molto performante ci sono parecchi matchup veramente easy per questo deck proprio dati dal fatto che in tanti deck al momento nel meta si basano sul Bore Control e questo mazzo è quasi imbattibile nel Bore Control quindi una lista molto performante l'ho utilizzato dal Diamond 3 a Legend anche un po' per rancare in Legend lo trovo attualmente molto forte come deck penso sia sempre tra i tier 1 insieme a Rogue sicuramente per chi è un fan del control questo è il mazzo adatto a voi e che dire ho visto tante liste un po' particolari qualcuno che giocava War Maul Challenger 2x e l'Outsider Axe è una carta che non vedo in tutte le liste il Ringmaster Watley che tra l'altro è una leggendaria non lo giocano tutti a me piace perché dà un card draw a una lista che non ne ha quindi molto carino in generale ripeto questi tre mazzi sono tutti e tre molto forti penso Rogue e Warrior siano leggermente più forti di Mage Mage comunque rimane una scelta molto valida ma molto più economica costa quasi un terzo di Warrior quindi molto 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 economica bene spero di aver detto tutto questi sono i mazzi ragazzi tre mazzi che ho utilizzato per fare Legend in quattro giorni ripeto e non sto trollando se non lo sapete streamo anche su Twitch potete trovarmi su Twitch tutti i giorni tranne mercoledì e sabato dove escono appunto qua i video su YouTube dove potete trovarmi appunto rancheare a High Legend Bene detto questo che dirvi ragazzi se il video vi è piaciuto fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questi deck voi che deck avete utilizzato per fare Legend ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e fatemi sapere cosa volete vedere cosa vi interessa vi siete riapprocciati a Arson come ricominciare qualcosa arena duelli Legend mazzi strani guide di mazzi strani come giocarli fatemi sapere cosa ne pensate spero che questo format vi sia piaciuto noi ci vediamo al prossimo video next week ciao bao non lo so bye bye